Abbiamo provato il DUP, il documento unico di programmazione, un documento importante dove ci sono tantissimi interventi nell'interesse generale della collettività, siamo felici che eventualmente possiamo dare tutte queste risorse e tutti questi obiettivi che partano dalle scuole perché noi abbiamo fatto un piano scolastico di generazione di tantissimi edifici, abbiamo fatto anche per quanto riguarda tantissime strade, anche stamattina in giunta abbiamo provato anche l'uscita dell'asse mediano per quanto riguarda in accordo con la regione nelle zone industriali e assi, noi abbiamo fatto tantissimi tipi di interventi, ecco l'obiettivo dell'amministrazione Manfredo è proprio questo, fare degli atti importanti, atti in cui dobbiamo essere celeri, veloci, il PNR non aspetta nessuno e quindi gli obiettivi sono di essere veloci e di dare le risposte concrete ai cittadini, con l'approvazione di oggi nei tempi giusti, in tempi corretti daremo tutti questi obiettivi e il benessere della collettività avverrà tramite la realizzazione di tutto quello che abbiamo programmato e realizzeremo. Un attimo prima dei campi Flegrei ha incontrato i manifestanti? Sì, ho incontrato anche i manifestanti per quanto riguarda tutti i disoccupati, dove hanno chiesto al sindaco Manfredi e alla nostra amministrazione città metropolitana di sollecitare ancora di più, perché già sono stati fatti in passato, un incontro tra il ministero, i diversi ministeri e il prefetto. Allora l'impegno nostro di oggi è quello proprio di arrivare alla determinazione di sollecitare il governo tramite la prefettura affinché si possa unire in questo tavolo e si possa fare la modifica della legge che loro hanno chiesto di emendare affinché possano finalmente entrare anche loro alla luce del PNR e di entrare nel mercato del mondo del lavoro. Il Consiglio metropolitano ha approvati anche fondi per le scuole di Napoli e provincia per mettere in sicurezza specialmente in questo periodo particolare? Assolutamente sì, stiamo parlando di centinaia di milioni di Euro per quanto riguarda questi tipi di investimenti. La sicurezza è il primo punto che noi ci diamo, specialmente per i nostri figli, perché in tutte quelle scuole non solo vengono frequentate da tante persone che dovrebbe essere il luogo più sicuro e noi stiamo lavorando con questi finanziamenti affinché siano, quello che noi diciamo, i posti più sicuri per far sì che i nostri figli, i nostri bambini, i nostri ragazzi vivano e studiano in alloggi, in strutture non fatiscenti ma buone, strutturate ma non si sommano in primo punto che siano sicure sotto il punto di vista strutturale. Il Governo ha approvato il decreto sui campi fegrei, 52 milioni di Euro per le vie di fuga, la comunicazione, il monitoraggio degli stabili è sufficiente? Penso che questo del Governo sia il primo punto che possa approvare la prima somma, il primo stanziamento, ma sicuramente con 52 milioni non si arriverà a tutti gli obiettivi che loro diranno, ma questa è una cosa che possiamo dire noi, la speranza che il Governo insieme a tutte le altre istituzioni collaborino in modo sano e possono arrivare alle determinazioni per garantire la sicurezza di tutti i cittadini dell'area dei campi fegrei e non solo. Vice sindaco, a proposito di collaborazione, Musume Ciglieri al termine del CDM ha detto abbiamo stanziato 52 milioni, sono tutti fondi statali, la Regione in questo momento non ha ritenuto di partecipare economicamente. Ok, questo qua in effetti sono le esposizioni che penso che la Regione Campania abbia fatto del duro di valutazioni, ma in determinati momenti poi si vedrà successivamente, perché non penso neanche che il Governo con 52 milioni per tutto quello che potrebbe stanziare, stanziare solo 52 milioni la vedo anche un po' misera rispetto agli obiettivi, quindi oggi ad alzare il livello sulla Regione Campania che non mette somme, io direi che forse il Governo lo poteva dire, si stanziava centinaia di milioni di Euro e diceva sulla Regione Campania, poteva stanziare anche loro delle somme. Dico anche che ci sta un po' di confusione rispetto anche a tutte quelle manovre che stanno facendo sui fondi PNR per il trasferimento UFSC, tutto questo qui è un'altra partita, quindi bisogna effettivamente verificare bene e non cedere solamente alla prima comunicazione che qualcuno possa dire. Ma una cosa la posso dire con grande serenità è che tutti quanti, non penso che ci sia un amministratore di qualsiasi livello, qualsiasi schieramento politico che non si possa schierare a fianco di tutte quelle problematiche che stanno arrivando adesso per quanto riguarda i campi flegrei e non solo. Possono essere previste anche risorse da parte della città metropolitana? Guardi, noi l'abbiamo già fatto in altri momenti, non l'abbiamo neanche pubblicizzato perché noi riteniamo che noi dobbiamo prima agire e poi lo diciamo. Quando c'è stata l'emergenza sul terremoto di Ischia la città metropolitana ha stanziato diverse somme per quanto riguarda le coste e non solo. Quando se succederà eventualmente anche noi come tutti gli altri faremo i dovuti sacrifici affinché sicuramente potremo fare la nostra presenza e la nostra intenzione di stare a fianco ai cittadini. Come o fondi o altro noi saremo qui presenti.